Il mio peso l'ha rotto. Sì. E quindi sono costretto a cambiarla? Ehm, va bene. Questo lo porto nell'immondizio. E mo? Semplice. Ah, nuova sedia. Sì, e anche i capelli mi sono fatto per chi l'avesse notato. Comunque, questa sedia mi piace molto. Perché almeno non mi viene la gobba con la schiena e... Sì, perché prima con quella vecchia sedia stavo sempre così e adesso posso stare più comodo. Che relax. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Benedetto Sword. Oggi siamo nello speciale 2600 iscritti. Ragazzi, io vi ringrazio di cuore perché veramente io non mi aspettavo un traguardo del genere. Quando sto registrando questo video stiamo quasi ai 2700. Cioè ragazzi, io veramente non ho parole, io vi ringrazio di cuore. Adesso spero di raggiungere la monetizzazione al più presto perché... Devo guadagnare i dinghi. Vabbè, scherzi a parte. In questo video andremo a vedere i flop e i fuori onda che ho fatto durante i video col nuovo dispositivo di registrazione, ovvero il Mac. Ma prima di iniziare... SIGLA! Perfetto, adesso possiamo iniziare. Sì, prima mi dovrei mettere le cuffie perché altrimenti il video non può partire. Attaccarle anche qui perché il filo è anche staccato. Perfetto, adesso vi lascio ai flop e ai fuori onda. Ci vediamo dopo. Tutto parte con Pinky che invita le sue ragazze alla festa di comp... Le sue ragazze, mamma sì, che facciamo... Rendiamo tutte lesbiche adesso. Sono tutte lesbiche. Tutto parte con Pinky che invita la festa di compleanno di Twilight... Ma porca p... Mamma mia, ma una battuta... Geniale, no. Perfetto, ora possiamo iniziare. Giusto, prima devo partire lo schermo che... Dovevo decidere io, vabbè. Nel frattempo... Azzisci intere lo schermo... Azzisci... Cioè ha fatto una foto? Ha fatto... Cioè non ho capito, io ho messo... No, hai giustato lo schermo? E le ragazze dicono... Dovremmo farlo molto più presto questa... Dovremmo farlo... Dovremmo fare una festa... Azzis... Infatti il giorno dopo, Pinky... Perché io mi scordo già i dialoghi? Allora... Io prima mi devo fare un protologo... Allora, pagina 5, perché là dove c'è... Non posso aiutarmi... E noi ce la vediamo al prossimo video. Bene, ragazzi... Inizio... Io non ci crederò mai... Io non ci crederò mai a quello che ho letto in vita mia... Non ci crederò mai... Inizio... Non sto capello... Ma sto gestando lo schermo... Ma... Non sto gestando lo schermo... All'improvviso... Pinky vede Twilight entrare in... Di... Mamma mia sto impazzendo... A un certo punto però Pinky vede Twilight entrare risoppiato nell'angolo zuccherino... E allora decide... Mi dovevo fare prima un copione e poi dovevo leggere tutto... Ma morca... Giusto... Chi va il tutto... Apriti Grom... Apriti Grom... Apriti... Che c***o! Allora Pinky Pie decide di invitare a casa... Anche Rainbow Lash per... Qualche strana ragione... E allora lei va... A... Diciamo... Che non c'è, che non è tornata nemmeno lei da casa su Mentre le ragazze stanno cercando Applejack Scutaloo ha detto loro che le ragazze non hanno Madonna mia Non sto capendo Sto o non sto registrando lo schermo? Ma credo di sì che sto registrando lo schermo Sto o non usare i programmi Quando l'accente Twilight si rende conto Ma, ma, no, è un PNG, è una foto, è minna Ma la moglie dovete dire sto o non sto registrando lo schermo? No, non sto registrando lo schermo Possiamo vedere le QD Macru Jailers tutte decapitate Non decapitate, tutte impiccate Poi, adesso come potete dire Faccio partire lo schermo E... C***o Regista l'intero schermo Perfetto, adesso possiamo iniziare A... Divertenti Ma non troppo Già Comunque Spero Che abbiate apprezzato Questa lista di Prop e fuori onda Spero che il video vi sia piaciuto Mettete un bel mi piace Iscrivetevi al canale Vi ringrazio per i 2600 iscritti Attivate la campanella Per restare aggiornati Sui miei ultimi video che faccio E noi ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi Ciao